Ancora buona domenica e ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini, traffico al momento regolare su strade e autostrade della nostra regione. Un veicolo è fermo sull'A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna e ancora in A1 personale su strada tra Firenze e Scandicci e il Bivio A1, A11, Firenze e Pisa Nord in direzione di Bologna. Per quanto riguarda i treni, un ritardo nella preparazione, il 18297 Pisa-Livorno, ricordo è cancellato, i viaggiatori con il 4035 da Pisa a Livorno. Infine ricordo i lavori al viadotto sull'Arno dell'autostrada A1 che non sono compatibili con la circolazione dei treni, comportano quindi un'interruzione per tre fine settimana della tratta ferroviaria in Polifirenze, si tratta del 18-19 novembre, del 25-26 novembre, 4 e 5 di gennaio. Moversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.